A presto, a presto, a presto, a presto. Allora direi che ci siamo. Ci siamo? Ci siamo. Intervista doppia. Andrea e Marta. Prima. Prima e Ud. 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 Ok? Quando la sentite non è che mi separate quando sentite la testa. Ok? Il tuo nome? Andrea. Il suo nome? Marta. Andrea. Andrea. Da quanto tempo state insieme? Tre anni e mezzo. Tanto tempo. Il giorno del suo compleanno? Il 13 aprile. Dove e quando vi siete conosciuti? Dove e quando? Allora, ci siamo conosciuti. Una sera di novembre. E' un po' di anni fa. E' una sera di novembre qui a casa sua. Il primo regalo fatto al partner? Il primo regalo? Ah, una giacca. Una giacca. Ma la parola. Hai mai bevuto tanto da ugriacarti? Sì. Anche stasera. Ma mamma mi ha fatto qualcosa che non lo sapele. Quando è l'ultima volta? Ieri sera? E' successo un mesete e mezzo fa. Ma dopo tanto tempo che non succedeva. L'ultima volta che hai fatto sesso. Nel 1900. Questa la tagliate di nuovo perché c'è il 300 e la avevano sentito. E' come... Non mi ricordo il giorno. Questa la tagliate però. Sicura è un minuto. E' il giorno io sono più bello. Non so niente. E' vero. Non so niente. Va bene ragazzi. Potete darvi un bacino. Se arrivano. Sono distanti. E' gratis. Allora. Prima impressione di così a caldo. Ditevi pure di tutto perché intanto... Eh non sanno cosa risposti. Vabbè ma poi ditevi di tutto. E' vero. 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 Che ha detto lui. E' vero. E' vero. Ma no. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. quello li lo mandiamo subito online stasera domani per gli amici sicuramente divertirsi senza bere che pago io ha pagato ok bravo bravo e tu dico qualcosa dei tuoi amici e io cosa dico? e accoppiatevi su in spiaggia ma dai vedi lo so preparato come noi allora ricordiamo intanto la data del matrimonio il 12 settembre il prossimo quale non è importante mi fa il secondo piano quella il 12 settembre alle 3 e mezza vi aspettiamo numerosi venite venite che si mangia bene non ti preoccupare dove stiamo a mangiare? all'albergo che si mangia bene non lo dico io va bene sempre soddisfatti? imbalazzata no vedete ok allora no dai Andre anche io vengo ci siamo insieme ci siamo insieme ci siamo insieme abbracciati Andrea ciao un saluto a tutti gli amici di prima video ci vediamo il 12 settembre ecco fatevi intervistare mi raccomando fatevi intervistare e non fatevi una malta risconde guardate questa faccia qua ricordatelo eh ricordatelo eh grazie